Pazza per i bulldog francesi Yasmine Sanders, pazza per i bulldog francesi Quanto le mancano i suoi amici a quattro zampe, Yasmine Sanders sta sfilando su una passerella dietro laltra alla settimana della moda di Parigi, ma pensa sempre ai suoi due bulldog francesi, rimasti a casa ad aspettarla. Yasmine Sanders, padroncina dal cuore tenero. Sono tantissime le VIP dello star system ad avere un amico peloso che tende a loro compagnia tra un evento mondano e un altro. Yasmine Sanders? Ne ha addirittura due ed è oltremodo pazza dei suoi bulldog francesi. I loro nomi? Bam Bam, che con ogni probabilità allude a uno dei baby personaggi dei Flintstones, ovvero il figlio di Barney e Betty, e Rocky, un combattente nato come l'omonimo pugile interpretato da Sylvester Stallone. Anche se a prima vista sembrerebbero due maschietti, scopriamo invece che si tratta di due magnifici esemplari di bulldog maschio e femmina, talmente amati da Yasmine da avere un proprio profilo personale su Instagram. I miss mi babbie e son muc, mi mancano tanto i miei cuccioli scrive la Sanders sul social delle immagini direttamente dalla Paris Fashion Week, e condivide con i suoi fan questo momento molto divertente dove la padroncina insegna ai suoi amici pelosi a stendersi per terra a comando. Bambam e Rocky non deludono la bellissima supermo dell'americana, in primis annusano e baciano con dolcezza la mano di Yasmine che, ovviamente, racchiude un prelibato premio per chi eseguirà il comando alla perfezione. Poi, la Sanders pronuncia la parola Dead, e i due, attentissimi, si stendono sul tappeto bianco e nero, posizionandosi su un lato, proprio come se fossero stecchiti. Il gioco del fingersi morto, che tra l'altro, nei meccanismi della natura selvagge in cui vige la legge del più forte, non è mai da sottovalutare, è uno dei più noti e tutti i padroni cercano di mettere in scena questa simpatica gang con i propri cani. Non tutti, però, sono di indole così attenta e smart, ma Bambam e Rocky hanno una marcia in più e, visto il tenero video, tantissime attenzioni da parte della loro bellissima padroncina. Sbirciando il loro profilo social personale, poi, scopriamo che la splendida 26 anni adora adornarli con accessori alla moda, oppure con travestimenti tematici a seconda del momento, un po' come fa Fedez con i suoi Chihuahua. Ma visto che abbiamo citato l'argomento, non possiamo che parlare di un'altra fascia Nikon che, proprio come Yasmine, adora i bulldog francesi. Di chi stiamo parlando?. Yasmine Sanders adora i bulldog francesi e non è l'unica. Se Yasmine Sanders va pazza dei suoi meravigliosi bulldog francesi dallo sguardo glaciale come il suo, possiamo dire che c'è anche un'altra collega del mondo della moda che condivide con lei la stessa passione. Stiamo parlando, ovviamente, di Chiara Ferragni, la biondissima fashion blogger più in del momento che, proprio come la Sanders, adora i French bulldog, la sua Matilda, Ferragni, è dotata di profilo Instagram esattamente come Bam Bam e Rocky. Vogliamo parlare di accessori? Tra collarini fashion e fiocchetti spunta anche un evergreen, il papillon, un accessorio graziosissimo per questi eleganti cagnolini e, per quanto riguarda i Ferragnez, addirittura galeotto della storia d'amore più chiacchierata del momento. Grazie per la visione!